Benvenuti a questo nuovo episodio di Notizie Flash di Radio Fuggino NER. Parliamo di una toccante proposta di matrimonio avvenuta in un contesto davvero speciale. Giulia Latorre, figlia del Marò Massimiliano Latorre, ha chiesto alla sua compagna Rosi Grano di sposarla durante la cerimonia di giuramento da agente della Polizia Penitenziaria a Sulmona. La trentenne Tarantina ha organizzato una sorpresa con la complicità dei colleghi trasformando un momento solenne in un ricordo indimenticabile. Alla fine della cerimonia gli agenti si sono disposti in due file come a fare un picchetto d'onore ciascuno con una rosa gialla in mano. Giulia ha sfilato tra di loro, si è inginocchiata davanti a Rosi raccogliendo da ogni agente una rosa e dunque formando un mazzo di rose e con un anello in mano le ha chiesto mi vuoi sposare? Al sì di Rosi è seguito un abbraccio emozionante coronato dall'applauso e della gioia dei colleghi presenti. Il video della proposta pubblicato sui social è diventato virale. In un post commovente Giulia ha dedicato il giorno del giuramento alla madre Mariella recentemente scomparsa. Mamma sei stata la cosa più bella della mia vita. Ti ho sentita, eri lì con me. Ha scritto Giulia esprimendo tutto il suo affetto e la sua gratitudine. Giulia Latorre nota per essere la figlia del fuciliere della Marina Massimiliano coinvolto nel noto caso de Marot. Ha fatto coming out nel 2016 dichiarandosi fiera di essere se stessa. Da tre anni è fidanzata con Rosi, conosciuta tramite un'amica in comune e dopo la morte della madre ha trovato il coraggio di fare la proposta di matrimonio alla quale ha assistito anche suo padre Massimiliano. Questa è la storia di oggi. da Radio Puggino NER continuate a seguirci per altre notizie flash e aggiornamenti al prossimo episodio.